Anche in estate Noi TV non si ferma e vi propone un palinzesto ricchissimo. Oltre agli appuntamenti informativi con il TG Noi in onda 7 giorni su 7, con la cronaca, l'attualità, la politica allo sport e il calcio mercato, una serie di nostre produzioni grazie alle quali ci premiate con i soliti ascolti record. Anche a giugno infatti i dati auditel confermano Noi TV come la seconda televisione della Toscana ed è grazie alla vostra spinta che non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Anzi, vi proponiamo un agosto speciale, ogni sera l'appuntamento con la Versiliana di Marina di Pietrasanta, lo storico caffè di Romano Battaglia, che Noi TV è tornata a produrre anche dal punto di vista televisivo e poi ancora dal Gran Teatro di Torre del Lago, il salotto del Festival Pucciniano in occasione delle principali rappresentazioni delle opere liriche in cartellone. Rimanendo alla cultura, il 17 agosto è in diretta dalla Cittadella del Carnevale di Viareggio la presentazione dei bozzetti dei carri del Carnevale 2020, dai locali del Principino sulla passeggiata, il ritorno in grande stile del premio Viareggio Repaci fino agli appuntamenti più popolari come il Palio di Camaiore, il Palio dei Bagni con i bagnini di Forte dei Marmi sui patini di salvataggio e la musica d'estate con canzonissima On the Beach. E poi le nostre telecamere hanno seguito concerti ed eventi particolari come le feste medievali, gli appuntamenti delle Vigliani, Terrinca, il Peperoncino Day e tutte le serate in cui i protagonisti sono i paesi della nostra provincia.